Riprendono gli eventi dedicati a scienza medicina della Fortezza, primo importantissimo evento di questo 2018 sabato all'ospedale San Donato, un convegno in cui si parlerà delle malattie genetiche rare. Come si svolgerà la giornata? La giornata si svolgerà la mattina alle 9 c'è questo convegno, speriamo di avere anche il presidente dell'Asle di Arezzo, Desderi, e dopodiché si dà spazio agli esperti che parleranno in maniera particolare di queste malattie che rare sono, ma non poi così tanto, come dice anche il titolo. Forse sono rare per le aziende farmaceutiche che non hanno un ritorno economico abbastanza importante. E quindi speriamo di poter portare un buon contributo alla cittadinanza, che purtroppo molte famiglie hanno di questi problemi, di portare un aiuto, un sostegno morale, perlomeno morale. Può darsi anche qualche buona novità, una speranza per il futuro, speriamo che si possa concretizzare nel meglio. Famiglie che appunto spesso si sentono sole, no? Perché magari la ricerca non va avanti come dovrebbe. Non va avanti come dovrebbe, quindi perlomeno sentirsi un pochino appoggiate, sostenute, almeno moralmente, per quanto riguarda appunto il loro problema, che per chi lo soffre è sicuramente un problema molto grave. Queste tematiche vi stanno a cuore da sempre, no? Sì, ci stanno a cuore anche perché questo è il nostro secondo convegno presso l'auditorium dell'ospedale. Un primo è stato fatto due anni fa, sempre in gennaio, con il professor Santitofani, che è un fisico medico, che ci spiegò la sua esperienza e quello che ha realizzato nella sua vita. Tra l'altro il professor Santitofani sarà presente anche a questo convegno qui perché ha già una collaborazione con la Fondazione Baschirotto, che poi è l'epicentro di tutto l'evento di domani l'altro. L'evento che sarà interamente ripreso anche da Rezzotivo, allora appuntamento dalle 9 al San Donato. Esatto, dalle 9 fino alle 13 ci saranno soprattutto dalle 12 in poi il confronto con le famiglie che speriamo vengano, speriamo che ce ne sia poche perché non ci hanno pochi malati, ma speriamo che vengano tutte quelle che hanno bisogno perché la Fondazione Baschirotto è veramente una fondazione che, a parte che è una Ollus, ma si dedica soprattutto alla prevenzione e ricerca.